Un errore fatale, una dose killer di quello stesso medicinale che l'avrebbe dovuta aiutare a guarire. Inizierà il prossimo 29 marzo il processo di secondo grado per la morte di Valeria Lembo, la 34enne uccisa il 29 dicembre del 2011 da un'overdose di vimblastina, somministratale erroneamente all'ospedale Palermitano Policlinico, dove era in cura per trattare un linfoma di Hodgkin. Cinque i soggetti accusati di omicidio colposo e falso. Già nel dicembre 2015, infatti, il giudice Claudia Rosini aveva condannato a quattro anni e mezzo l'ex primario di oncologia medica del presidio ospedaliero Sergio Palmeri, a sette anni la specializzanda Laura Di Noto e a sei anni e mezzo il collega Alberto Bongiovanni, mentre a quattro anni attesta le infermiere Clotilde Guarnaccia ed Elena Demma. Un sesto indagato, lo specializzando Gioacchino Mancuso, venne invece assolto dalle accuse. Alla base, un errore contenuto nella cartella clinica. A Valeria venne somministrata una dose di vimblastina pari a 90 mg, ovvero dieci volte superiore a quella richiesta per curare il linfoma di Hodgkin, che le ustionò gli organi interni, portandola nell'arco di qualche giorno ad una morte atroce. Uno zero in più, in seguito cancellato da Bongiovanni, che uccise la Lembo ai tempi madre da appena otto mesi. Grazie. 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 Grazie.